È trascorso un anno, ma per gli abitanti di Palestina sembra ancora ieri, un anno dall'acqua grande che non è passato in vano. Molti sono stati i lavori fatti per mettere l'isola in sicurezza, ma soprattutto nessuno qui ha dimenticato Giannino Scarpa, vittima dell'alta marea, molto forgolato mentre cercava di mettere al sicuro i mobili della sua casa dall'acqua della laguna che entrava nell'abitazione. Siamo qui a Palestina dopo un anno della tragica alluvione del 12 novembre 2019 quando l'acqua della laguna, con forte vento, spazzò via il muretto, lato laguna, entrando nelle case e creando seri disagi, seri danni. In questo momento siamo vicino alla famiglia di Giannino Scarpa che è venuto a mancare quella notte, un tragico incidente. Così la sera del 12 novembre, a un anno esatto da quella tragedia, tutta l'isola di Palestina, nonostante la giornata lavorativa, ha voluto ritrovarsi nella chiesa di Ogni Santi per pregare e ricordare quelle ore drammatiche. Oggi però l'attenzione è anche sui lavori per la messa in sicurezza. Trovare le risorse per fare le manutenzioni sul lato laguna, quindi il muretto lato laguna che già è stato fatto. Bisogna anche eseguire le giuste manutenzioni anche riguardo il lato mare, dove il mare adriatico nel 66 ha scavalcato i murazzi entrando in laguna. A preoccupare non è solo la laguna, ma anche il versante lato mare. Anche nel mare adriatico con la diga soffolta, che sarebbe la diga subacquea che si trova a largo della costa di Palestina, i pennelli a mare, cioè i 17 pennelli a mare e più il rifascimento della spiaggia, perché con il lanciamento del Mose bisogna fare in modo anche di risanare, di fare una manutenzione e un rifascimento anche all'arenile.